Guarda questo tifoso del Milan, se non vuoi perderti nessuna notizia dal Milan in prima persona iscriviti subito a questo canale, perché siamo sempre al corrente delle ultime notizie dal Milan e qui rimani in cima a tutto dal Milan. Il campionato di Serie A riprende domani con la sfida del Milan alla Salernitana e Stefano Pioli sembra aver deciso la formazione titolare da utilizzare. Milan News scrive che Ante Rebic, Simon Chiaer, Divo Corigi, Fodeballo Touré, Rade Krunic e Junior Messias si aggiungono a Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi e Mike Meignan come assenti per la trasferta di Salerno, mentre Pioli deve ancora una volta affrontare una crisi di infortuni. Ma prima di continuare con le notizie vi lascio qui sotto, nel primo commento fisso, e nella descrizione di questo video il link di 1xbet uno dei più grandi bookmaker del mondo. In porta ci sarà Ciprian Tatarusanu con Davide Calabria, Pier Calulu, Ficaio Tomori e Tio Hernandez in difesa, protetti dal doppio pivò Sandro Tonali e Ismael Ben Nacer. Lasciate già il vostro like su questo video, perché è molto importante per voi non perdere le ultime notizie sul Milan che pubblichiamo qui, grazie. Alexis Seilemakers dovrebbe giocare all'ala destra, Brian Diaz come titolare, 60% di possibilità di partire al posto di Charles de Quetelaere, e Rafael Leao all'ala sinistra come tridente dietro l'attaccante Olivier Giraud. Probabile 11 del Milan, 4-2-3-1 Tatarusanu, Calabria, Calulu, Tomori, Tio Hernandez, Tonali, Ben Nacer, Seilemakers, Diaz, Leao, Giraud. E i tifosi del Milan, secondo voi è una buona prima squadra o no? Qual è la sua opinione? Scrivetelo nei commenti, perché è molto importante per il nostro rosoneiro team. Restate sintonizzati, perché in qualsiasi momento vi aggiornerò con le ultime notizie da Milano.